Buonasera a tutti, qui in esclusiva abbiamo l'idiatore e creatore delle più belle frasi di Osho, la pagina virale su Facebook delle ultime ore, sta avendo Mi piace a GoGo, e è voluto rimanere parzialmente anonimo, giusto Federico? Sì, ho preferito nascondere il mio volto e coprirmi con una maschera col mio volto, per rimanere anonimo. Come ti è venuta in mente questa idea? Ma guarda, è nato tutto dall'osservazione della realtà, dei luoghi comuni, delle frasi che tipicamente si dicono nelle conversazioni più banali, e mi faceva ridere questo fatto di associarla a un personaggio così autorevole, diciamo, come Osho, quindi il discorso era proprio questo, creare la risata dall'associazione di un personaggio così a una battuta che tutti, a una battuta più che altro a dei contenuti che tutti utilizzano e in cui tutti si riconoscono. Quindi il contrasto tra la santità e spiritualità eterea di Osho e la, possiamo dire, la rozzaggine, come si dice qui a Roma, del romanesco. Esatto, ma sì, il romanesco, ma anche espressioni che si usano un po' in tutta Italia, sì, soprattutto a Roma. Faccio un esempio, ovviamente ce ne sono alcune più volgari, no? Simpatiche sempre, satiriche e altre meno, insomma, più opere. Un esempio classico è quello, ti posso fare l'esempio di lui che sta su uno scoglio e che dice agli amici se fanno prestare racchettoni, che quella è una cosa che tutti dicono, tant'è che i racchettoni si fanno sempre prestare, insomma, quasi nessuno si riporta da casa, tant'è che poi il passaggio successivo, se avessi potuto fare un'altra vignetta, una volta prestati i racchettoni, si dice al proprietario, tanto stiamo qui davanti. Ce ne sono tantissime, le potete andare a vedere e ridere insieme agli amici e condividerle. Sulla pagina, la vogliamo ripetere, facebook.com? Le più belle frasi di Osho. E hai avuto problemi con, chiamiamola la setta, no? La religione, come si dice, i seguaci, no? Perché comunque non è una setta. Di Osho. Ti dico la verità, la maggior parte mi scrive, mi dice che pur essendo, insomma, seguace di Osho, trova divertentissima questa pagina. Però sembra anche che a qualcuno abbia dato fastidio e quindi si stia adoperando per farla chiudere. Io credo che Osho, se fosse vivo, perché, insomma, si farebbe pure lui una risata, no? Perché poi tradurre il romanesco in inglese sarebbe un po' difficile, però insomma, il concetto... Per quello che ho potuto leggere di Osho, credo che questa pagina l'avrebbe potuta fare anche lui. Quindi chi la contesta va un po' contro la sua filosofia e poi comunque credo che in questo modo io riesca a dare anche autorevolezza al personaggio, proprio perché fa ridere proprio il fatto che un personaggio autorevole venga comunque... Poi fai anche pubblicità a Osho, è tutto quello che ne deriva. Molta gente si è avvicinata a Osho anche attraverso me. Si chiede chi è questo Osho, in realtà è un grande buddista, giusto? Sì, sì. Quartone buddista, scritto al libro. Ti dico la verità, non lo conosco benissimo. Però sì, comunque ho letto qualche cosa in questi giorni, perché comunque ovviamente mi è capitato di leggere qualche cosa e scrive anche cose molto interessanti. Quindi in pubblicazione novità poi anche nella formula, perché tu praticamente inserisci un'immagine con quella frase che tu crei. Però mi stavi dicendo che stai anche insieme al Canale 25 e stiamo organizzando, anche per conto tuo, delle nuove forme, non so, in video o in fumetti e così. Quella adesso di renderla diciamo animata, quindi col sonoro, quindi la battuta viene detta invece di essere letta e forse raggiunge anche un'efficacia. Chiudiamo con due cose, la prima è che potete iscrivervi alla pagina, più che iscrivervi mi piace, sì, seguirla andando su Facebook, mettiamo il link nella descrizione sotto al video e l'altra se ci chiudi con un'ultima frase di tua santità Osho. Possiamo citare quella che ho fatto oggi, in cui c'è Osho che accarezza un bambino e dice una delle cose che ogni genitore o parente con un bambino piccolo dice, cioè non è perché è mio nipote ma davvero questo bambino è particolare, che insomma è una cosa che si dice sempre, anche dei cani, dei gatti, dei propri bambini. Benissimo. Grazie. 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 Grazie.